Come guadagnare criptovalute a febbraio 2023 gratis? Parliamo sia di cripto, sia di azioni, sia qualunque quello che volete, anche di soldi, perché bene o male possiamo convertire il tutto in soldi e renderli prelevabili. Per prima cosa, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Il primo che vi consiglio, in questo caso la prima piattaforma di investimento, è Trading212. Però ragazzi, in questo caso, qualora non capite quello che vi sto dicendo in questo video, se andate all'interno del mio gruppo Telegram, ufficiale Top Coin Italia, ovviamente ci sono tutte le guide per andare a rendere questi soldi prelevabili. E se vediamo anche qui, ci sono le prove di pagamento, quindi tutto trasparente al 100%. Qualunque sia il vostro problema, potete contattarmi sia su Telegram, ok? E sia all'interno, sotto nei commenti di questo video, perché comunque vi andrò a rispondere senza, senza problemi. Iniziamo con Trading212. In questo caso, che cosa andiamo a ricevere? Andiamo a ricevere fino a 100€, ok? Ovviamente a invito, quindi facciamo caso, io sto invitando voi, ok? Voi andrete a ricevere massimo 100$, è ovviamente la persona che mi ha invitato pure. Però la cosa bella è che potete invitare ulteriori persone a vostra volta e andare a guadagnare ulteriori 100$. Che cosa bisogna fare? Allora, basta appunto registrarsi a Trading212 per ricevere gratuitamente un'azione di valore fino a 100$, depositando soltanto 10$, 10€, che poi è subito riprelevabile. La registrazione è molto semplice e veloce. Basta cliccare sul link sotto in descrizione, compilare il forum iniziale con i dati richiesti, va bene, qualsiasi documento. Selezionare ovviamente nella registrazione Trading212 Invest, andare a depositare 10€ e a questo punto andrete a ricevere entro un giorno lavorativo, se non sbaglio, quindi caso mai se capita di venerdì è domenica, poi capita di sabato è domenica, in questo caso se ne parla il lunedì, e andrete a ricevere questa azione gratuita di 100$. Io vi dico che quando l'ho fatta mi è uscita l'azione di Alphabet, che coloro che investono in azioni sarebbe praticamente Google, quindi capite bene che un'azione di Google, ora come ora, se non sbaglio da quante sto registrando questo video, è valutata 95$. Poi ovviamente fatta questa possiamo andare avanti a eseguire anche Actio, Actio ragazzi è devastante, devastante perché? Perché possiamo andare a guadagnare anche qui un sacco di soldini, questo come? Allora io per prima cosa vi lascio sempre il link sotto in descrizione, ok? Basterà comunque registrarvi e andremo a guadagnare massimo 200$, bonus di iscrizione fino a 200$. Poi ovviamente possiamo andare a ricevere un bonus ogni persona che portiamo fino a 200$, basterà registrarvi tramite il link sotto in descrizione, verificare i documenti, quindi la solita roba, e in questo caso basta depositare 15€ e dobbiamo andare ad acquistare e vendere, ok? USDT euro per 5 volte, capite che non si va a perdere soldi, e in questo caso ovviamente possiamo riprendere immediatamente e non c'è la volatilità, perché comunque come voi già sapete, USDT sarebbe la stable coin, e in questo caso riceverete entro 3 giorni il bonus, che ovviamente può variare la stessa identica cosa di trading 2.1.2, però se vi va bene ragazzi 200$ senza fare niente, e quindi in questo caso la consiglio veramente veramente un sacco. Poi andiamo qui ad un'altra piattaforma che mi piace un sacco, Bing X, questo perché ragazzi? Perché ovviamente tramite solamente, ripeto, il mio link referral, possiamo andare a ricevere massimo 10.000$ bonus, come riceverli? Allora vi consiglio comunque Bing X perché è un exchange, lo possiamo andare a comprare, cripto senza verifica, ovviamente basterà andare a depositare minimo 100 USDT, tramite ovviamente registratemi il link sotto in descrizione, eseguire un trade di qualsiasi importo, ed entro 5 giorni riceverai il bonus pari al 20% del tuo deposito, fino a 100, ovviamente, fino a, dipende quanto andrà a depositare, quindi deve depositare 10.000$, il 20%, ovviamente 10.000$ è difficile, però il 20% vi ritornerà in ghiarro senza problemi, io comunque l'ho prelevato, quindi funziona senza alcun problema. Poi ragazzi, un altro exchange, che veramente sta diventando tra i migliori, ovviamente in questo caso stiamo parlando di Occhi X, è lo sponsor anche ufficiale della squadra Manchester City, ok, quindi penso che la conoscete, e praticamente sta regalando delle mystery box, quindi in questo caso cosa dovete fare? basterà registrarvi tramite il link in descrizione, ok, andare a verificare la vostra identità, e ovviamente in quel caso, non so se c'è il deposito o meno, ma comunque già andate a ricevere una mystery box, senza problemi, ok, quindi in questo caso veramente è una grande opportunità, di tentare la sorte, e andare soprattutto a guadagnare, ripeto, poi qui possiamo utilizzare questo exchange, come appunto comprare cripto, venderle, scambiarle, tutto quello che vogliamo, infatti eccolo qui, riceve mystery box del valore massimo 10.000 dollari, ovviamente ragazzi, basta invitare un amico, basta l'accesso, ok, e poi possiamo andare a riscaldare la ricompensa, e diciamo che questa piattaforma, ok, tralasciando che paga e paga veramente un sacco, è veramente, veramente, devastante. BitGet, c'è anche e soprattutto un nuovo bonus, in questo caso possiamo andare a guadagnare 50.000 BGB, che cosa bisogna fare? Bisogna ovviamente registrarvi tramite il link sotto, in descrizione, ok, e in questo caso vi frutterà 50 BGB, poi basterà andare a fare ovviamente il primo trading di Futur, se sono ulteriori 50 BGB, andare a copiare un trader professionista sull'opzione copy trading, e frutterà ulteriori 50 BGB, e invitando un amico, ovviamente in questo caso andremo a guadagnare un altro bonus di 50 BGB, capite bene che ovviamente andando a sommare il tutto, è un'ottima promo, e perché no, comunque possiamo utilizzarla, poi ci sono altri ulteriori bonus, che vi consiglio di visionare all'interno di BitGet, perché è veramente una grande piattaforma, ok? In questo caso ragazzi, quello che vi consiglio è di registrarvi tutti, praticamente, tramite i link che ci sono sotto questo video, che frutterà bene o male diversi bonus, ok? Ovviamente io ne ho parlato di 1, 2, 3, 4, 5, ma ce ne sono veramente tanti altri, quindi vi lascio sia, mi raccomando, il gruppo Telegram, perché lì c'è tutto, lì tutto, Evergreen, funziona tutto, e ovviamente i link sotto questo video. Detto questo ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Grazie. Grazie.